Io sono Ben, sono un attaccante. Ciao, Ben. Lui è nuovo e giocherà in difesa. Lui si chiama Tariq e viene dalla Siria. Così almeno il tuo nuovo amico può sedere vicino a te. Lui non è mio amico. E al posto di Khan giocherà Tariq. Ben, voglio la soluzione del 5A. 5 o Tariq? Esatto. Il fratello di Tariq doveva venire in Germania, ma Tariq non sa dov'è. Se ognuno di noi chiede a 10 persone, allora... Potremmo trovarlo. In prima visione TV, il film Troppo Lontano. Sabato alle 21.20